Protestano i pendolari della tratta ferroviaria sul Mona L'Aquila. L'impianto di riscaldamento non funziona. Gli utenti in questione hanno scritto una lettera di protesta alla direzione di Trani Italia per sollecitare l'immediata risoluzione della problematica. Da qualche settimana si registra frequentemente il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento. Viste le temperature abbondantemente sotto lo zero all'esterno, comprenderete, scrivono, che la situazione non è più sostenibile. Da loro a Manforte, Francesco Trivelli, Feder Consumatori Abruzzo, Aurelio Di Eugenio, segretario regionale Filt Cigelle, Carmine Ragneri, segretario generale Cigelle Abruzzo e Molise, che chiede un incontro urgente alla regione. Per non parlare delle tariffe, dice Trivelli. Intanto il prezzo esorbitante che la regione pagherà alla ferrovia dello Stato, ma oggettivamente vengono a mancare di servizi essenziali. Come da questa lettera potete vincere c'è qualcosa che non funziona. Hanno ragione, hanno ragione delle condizioni di pulizia fatiscente dei mezzi, dei treni. Questa cosa lo abbiamo denunciato anche noi come organizzazioni sindacali. Da più tempo mancano dei depuratori, quindi mancano delle infrastrutture per fare delle pulizie come in pratica devono essere fatte. Certo, chiediamo alla regione di intervenire su questa vicenda, anche perché la regione sottoscrive con Trenitalia il contratto di servizi. Un contratto oneroso che poi pagano i cittadini abruzzesi con le loro tasse e quindi è giusto che i cittadini possano viaggiare su un sistema ferroviario di qualità.